Buongiorno ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovo vlog. Oggi vlog molto particolare perché vi porto nella mia casa in montagna. Infatti insieme a Giulia abbiamo organizzato una sorta di weekend, chiamiamolo così. Vi faccio vedere un pochino. Non mi ricordo se ho qualche video effettivamente in questa mia casa. Cioè io ovviamente ci vado da una vita, è la nostra casa di famiglia, che si trova in Abruzzo, in un pasino dell'Abruzzo. Appena arriviamo poi vi faccio vedere tutto, mi sono appena svegliata, quindi ho pure i segni del cuscino in faccia, lasciamo perdere. Quindi, primo step. Ormai sono andata in fissa e quando posso mi faccio questo la mattina, che voi direte che cos'è. Questa è una sorta di fit tiramisù con lo yogurt e i biscotti digestive. Trovate la ricettina di come l'ho fatto sul mio profilo di TikTok. Ovviamente mi faccio il caffettino, quindi sto scaldando praticamente il latte. Ormai sto facendo in questo modo, aspettate, 4, 3, 2, 1. Ok, togliamo prima che suona. Praticamente metto latte e acqua, così non è proprio troppo pesante. E poi, visto che questa cosa è super succherosa, non ci vado a mettere una bustina intera, ma questa bustina me la faccio durare circa 4-5 volte. Vedete come è fatta dentro? Se ne metto un cucchiaino, mixo, almeno mi dà la fragranza, senza essere, insomma, tutta la bustina. E quindi facciamo questa bella colazione. Faccio solo vedere quanto è creamy tutta questa situazione. Ieri è uscita su tutte le piattaforme la canzone Stay Alive, che sarebbe l'host di Chaco, che ha cantato Jong-U e prodotto Sugar. Sugar, raga, cioè non potete capire quanto è bella. Ormai è ripetizione proprio, sia perché la devo imparare bene, ma vi prego anche se non vi piace il coreano, il K-pop, cioè andatela a sentire e ditemi se non è bellissima. È così veramente. Comunque, qui mi sono preparata intanto la mia bustina. Ho preso l'acqua, qui dentro ci stanno un po' di cose di frigo, lì le cose che uso per fare colazione. Ed ora, visto che comunque è tardino, vi vado a sistemare, a trucchettare e preparo le cose da vestire. Ho fatto il mio solito trucchettino classico, proprio on the go velocissimo. E adesso tutto quello che ho utilizzato l'ho messo qui, così lo impacchetto e lo porto, almeno domani mi ritrucco praticamente nello stesso identico modo. Ok, siamo on the road finalmente. Che ore sono? Le 12. Quanto dice che manca? Un'ora e ventuno. Vabbè, vabbè, si vola. Quella mia macchinina si vola alle ali. Sì, esatto. Allora, in realtà appena arriviamo, già sappiamo cosa fare. Ragazzi, la mia sua periodica è in diretta. Chi è mio padre? Aspettate, ora torno. Allora, qui c'è ancora un sole, fa caldo, 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 quindi speriamo di arrivare in un luogo un po' più asciutto. Ilaria, è pesante che fa freddo, ragazzi, fa la colla. Eh, per ora, perché non siamo ancora entrate nell'Abruzzo. Ah, ecco. Eh, comunque c'è il sole, però dovrebbe fare freschetto. Poi è un posto dove io vado da anni, cioè da quando sono piccola, quindi adesso è un po' che non ci vado. Da Capodanno stavo facendo i contiare con mia madre, Capodanno tipo 2018, una cosa del genere, quindi è un po'. Vabbè, tre anni. Tre anni. Quindi vediamo cosa è cambiato, cosa c'è ancora, se ci sono i miei negozi di fiducia, sopra i miei negozi, poi tutta una maniera in realtà. La macelleria? Sì, ma con la fortuna nostra. Le mozzarella? Ma è chiuso post-covid. No, non è vero. No. Ci stanno. Vediamo. Noi arriviamo, sistemiamo la nostra casetta e poi andiamo al paesino a fare il nostro giudice. Però posso dire una cosa? Noi abbiamo una malattia, perché il genere tutti vanno, fanno, vabbè io voglio sciare, voglio uno slittino, noi no, io voglio la cioccolata calda e le nucciole, le sculture, la mozzarella. Ma guarda che credo non ci sia neanche la neve, c'è, però che non sali su a Passo Codica dove ci stanno tutte le piste, le cose. Ma noi ci andremo, ragazza. Ma che ci andremo, se c'è il ghiaccio, ma chi c'è va? C'abbiamo le catene. Abbiamo le catene, perché sono obbligatorie da portare quando vai in queste strade. Cioè, ci stanno proprio i cartelli, quindi se ti fermano, ce li devi avere. Però se mi dici, poi montale, non le sa montare neanche mio padre. Ma ce le monterà qualcuno, siamo bionde. Noi bionde abbiamo una marcia in più, ragazzi. Ciao. Va. Ok. Quindi arriviamo, per voi sarà un bello skip temporale e noi ci faremo queste, quanto so, due ore in totale, due orette. E via. Si parte, una nuova esperienza, un nuovo weekend. Allora Giulia mi ha detto, riprendi la vallata. Cioè, ma chi vive là? No, ma aspetta, ti devo far vedere un paesino, poi dove arriviamo che sta. Quello non è niente, cioè sta proprio sul dirubo. Ah, e che fanno là? Il giorno? Eh, non lo so, penso si muoveranno, faranno passeggiate, e si incontreranno con, non so, qualche vicino. Giulia sta facendo le prime curve della sua vita. No, bella, ma guardate le strade. Cioè, sono super, il peggio peggiorno è già stato. Sai le volte che mi sono sentita male su queste strade. Ecco, 22 è il nostro numero fortunato. È vero. Villa Lago. Eh, perché ora tra un po' passiamo dove ci sta il lago. Non mi ricordo mai che punto è? Sì, se ci arriviamo. Qua sta la casettina, poi sta piovecicando, non si sa bene. No, si chiama Nevischio. Nevischio. Yes. Vedete, lì c'è un po' di neve. In realtà è abbastanza bassa ancora. Vediamo, eccola, qua si vede un po'. In realtà dobbiamo salire ancora, quindi può essere che nel nostro giardino la trovo. Guardate, eccola. È pieno. È strano che è così bassa ancora. Eccola la casa della Befana. Ah, era quella? Sì, è quella lì sul cucuzzo. Qui c'è il ponte, poi ci sta sotto il lago, che però non è quello lì, non è il lago di Scanno. Questo è uno, guardalo. Che bello. bello, qui è bello che ci si fanno anche il bagno. Davvero? Sì, d'estate, capito, non c'hanno il mare, c'hanno il lago. E come fanno a farselo? Ci stanno le lagunette qua sotto, perché non le vedi? Che pizza, io mi volevo fermare. Vabbè, poi al ritorno non ci possiamo fermare. Eccolo. se ti rubo un messito. Lì ci ho fatto anche un bel picnic una volta. Dove? Vedi sopra. Sì, vedi, perché qua c'è il ponte, tu entri. A piedi? Sì, certo, vedi, quelli ci hanno. E poi c'è tutta la cosa qui su. Che bello è là. Guarda che bello è là. qui è tipo spiaggetta la usano, capito? E fanno chaff chaff. Ah, però vedi si parcheggia. Eh sì, certo, quindi fermi. Attenta che c'è star camion qua. Oh mio, sì. Riprendiamo in diretto. Basta andare in piano, calmi e tranquilli. Eccoci qua. La macchina è piccola, entra ovunque. Eccoci qua. Bisogna tra Massi e Andy Bischio qua. Prima o poi arriveremo. Questo è il pezzo quello lungo. Quanto 18 chilometri sono tutti così praticamente. Vabbè, dai, però il più brutto è stato quello là. Ah, quello di altro, ma di te. È stata da botta proprio iniziale. Non me l'aspettavo proprio. Cioè, in mezzo a due montagne su un ponte di legno sembrava tipo la Transilvania. Ma che di legno? Ma dai! Ma dai, ma arriva la Transilvania. Ma te prego. Cioè, non era un ponte di legno. Cioè, era un ponte di ma come sta strada, però era sospeso. Giustamente. Ma è tra due montagne. Ma certo, come passi tra due montagne se non lo fanno sospeso? Ma che mi sa, che mi sono messa tanta paura. c'è la c'è la città. Ah, Ah, questo è il paesino che ti dicevo quello che ci hanno... Questa è la faccia, capito? Sta su, strapiombo. E che fa? Mangianiere. Infatti dicono, oddio, come si chiama? Oddio, non mi viene. Non ho il bucio di gallina, una cosa del genere. Siamo arrivate anche al lago a forma di cuore. Cuore! Troppo carino. domani ci veniamo e vi faccio vedere un pochino. Ma io non mi ricordo di aver mai fatto un vlog qui a Scanno comunque. Cioè, mi sa che forse l'avevo iniziato uno e poi non l'ho mai caricato. Eccolo! Però hanno tolto le barchette per prenderle. Però magari in primavera... Ah, però sono coperte, vedi, perché adesso in primavera, quando torniamo in primavera... Quindi puoi prendere pure... Come si chiama? Quello... La canoa. No, non mi viene la bici con la... Iri Show. Iri Show. Eh, qua ci stanno tutte, vedi, tutte queste casette. Tutto ma in bici qua, lì a prima salita mi fermo, non mi muovo più. Ti fai tutto qua sotto, vedi, sta strada qui dentro. Ma che pesce, ma... Vedi, qui lo leggio bici, questi hanno tutte le... Sì, prendi iri Show, te pedali e io sto bicino. Vabbè, io guido. Ok, no, no, io guido e te pedali. No, al cavolo, guida è la parte più simpatica, più stimpi. E ora, ora saliamo nel paesino. Siamo arrivate alla casetta. Ve la faccio vedere fuori che Giulie è già dentro in questo momento. Però vedete, ci sta un po' di neve. E' uscita così il maglioncino, ok? Comunque, vedete, qui passa tutta la seggiovia, questa qui, che poi va su, 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 su. Vedete, con la strusciata lì? Questa è la casina. E mo' fatemi entrare perché fa freddo. Normale mi sono messa meno gli stivali. Allora, room tour, no, house tour. Qui entriamo, abbiamo questo mobiletto, la stufa, penso mai utilizzata in tutta la nostra vita. Poi, cucinella, carinella, qui c'è l'arco tutto in pietra, e poi, vabbè, qui ci stanno le vetrate che vi ho fatto vedere fuori, tutte le nostre cose, il tavolino di legno. Adoro, molto carina, graziosa. Questo è il camino, tv, tutte cose, divanetti, e poi di qua si va ovviamente nella zona camere. Qua c'è lo specchio. Questa è la prima stanza con i letti a castello, più piccola. Questa è quella degli ospiti matrimoniali. Bagno uno, qua c'è l'armadio, e la nostra stanzetta che è questa qui. Eccoci qua. E qui c'è l'altro bagno. Ci sistemiamo un attimo. Metto le cose nel frigo, faccio tutte queste cose. Guardate che bella luce dall'altro qui. Allora, pranzetto veloce, così poi siamo pronte per andare. E fu così. No, basta, ok, andare in questo modo, su Neve Frecca o Sassolini. Eccoci qua, siamo sane e salve. Brava. Così, bravissima. Vedi non ammazzarti magari, ok? Poi, stasera andiamo a mangiare qui, perché ho preso la rusticini da fare, ma questi fanno abbraccio, quindi è molto meglio. guarda qui, guarda qui. Guarda, una macchina passa ogni ora, l'unica l'abbiamo beccata da noi. Fa freddo, ma ho sentito di peggio a Roma in realtà. Quindi ora arriviamo giù in paesino e faccio fare un giretto, poi è presto, quindi non so quanti negozi saranno aperti. Ok, stiamo andando a fare la nostra passeggiata, qui c'è la pizzeria di Fidusa, penso sia tipo l'unica. e quindi ci facciamo il nostro bialetto. Questo qua è il palazzo della mia famiglia, eccolo qua, molto carino. Abbiamo già trovato la mia biscotteria di Fidusa che sta qua sotto, dopo la faccio vedere. Abbiamo trovato il ruscellino che sentivamo prima quando siamo passate da sopra e questa è la mia pasticceria preferita. Cioè, se venite qua a Scanno tipo d'obbligo. Pensavo avessi chiuso e mi stava prendendo un colpo. Sarebbe traumatico se chiudessero, veramente. ci andiamo subito? Sì, oggi mi ha mandato solo vedere tanto dobbiamo aspettare quelli che aprono. Vanno a moda. Io mi prenderei tutto. Allora, queste sono quelle tipiche. Questi qua, questi fanno dell'orzo, me li porto pure via. Questi qua. Bianco, certo. Ce n'è uno bianco. Mio. Eh, la voglia. Pure Wacaron giganti. Sì, sì, però devi prendere cose tipiche, capisci? Allora, poi ho reso un po' di biscottini. Questi qua, raga, sono la mia vita. La mia vita. Giulia invece è andata di cappuccino alla nocciola, zuppa inglese, tiramisù. Io invece mi sono presa il tè, ovviamente all'inglese con un po' di latte. Così, noi ragazze semplici, ragazze da bar. faccio come quelli che seguo, che fanno i video di cucina, visto quelli che ci vediamo noi su porn. Tra l'altro dobbiamo andare su quel punto. Vuoi essere impresante se non te la senti? No, ecco Maurizio, niente. Non la so. Piccolo. Amore mio. In domena che posso fare, secondo te? No, posso fare merenda? Dove vado l'aria Giulia? Dove vado l'aria Giulia? ha fatto merenda? Sì, è molto bella. Dai, poi ti ci porto. Ha detto, ma l'aria ha detto poi ti porta pure a sé quando vuoi venire? No, quando avrò anche io un fidanzato può venire anche me. ha detto, quando avrà anche lei un fidanzato puoi venire anche tu, quindi scordate da vedere sta casa. Ha detto, Maurizio, quindi la vedrà mai. Cioè, ma non hai fiducia di una cosa? Ha detto, se continui così, ha detto, manco da vecchio avete. Io ho portato il mio fidanzato stanno. Chi è il tuo fidanzato? è il cinese. È coreano. Io non so parole. Ora siamo uscite, mi sono fatto fare il sacchettino così vi porto qualcosa ai miei, fan dell'orso, ovviamente. Ho preso anche qualcos'altro e uno me l'ha regalato, non ho capito, devo capire che cosa ho preso. Siamo risalite un attimo in casa, abbiamo preso anche la legna così intanto si asciuga un pochino. Qua che ci stanno i termosifoni fa un po' più caldo, così dopo accendiamo anche il fuocherello. Qui ci sono i nostri, vabbè, pacchettini magici e ora scendiamo. Questa ho già messo la batteria. Ora scendiamo anche perché se no si fa troppo buio, già sta cominciando un po', guardate lì tutta la nebbiolina. Eccolo il mio biscottaro, ragazzi, ho già preso i miei arrosticini. Eh? Eh, se vuoi te lo fai, boh, non lo so, chiedi. Mamma mia che luce arancione che c'è. Guardate, è già diventato buio. Comunque, questo è il mio sacchetto. Dopo devo far vedere i dolcetti che ho preso perché vi giuro, cioè, se venite lì ci dovete passare per forza. Giulia è già a mangiare i miei soldi. Come sono i miei soldi? Buoni? Perché io i soldi? Perché l'ha pesato a me e poi tu l'hai rubato la sacchetta. Ragazzi, io mi sono fatta fare prima la mia busta e poi, ah, l'Ilaria li prende e poi non ti ne vuoi più. E io ho mangiato il suo busto. Beh, la sbafo è più buono. È vero, come sempre, giusto? Vi faccio vedere le cose che abbiamo preso. Questo qua è il dolcificio. Questi sono i biscotti, quelli con le mandorle, il miele e il cacao. Potete farli anche voi a casa ma sono buonissimi. Questa è una cosa che crea dipendenza e tramite un tocco di cioccolata. Cioè, guardate i pezzoni, non potete capire. Poi ovviamente ciambelline e gli amaretti, questi qua normali. Poi ho preso scamorza al tartufo, scamorza normale, le mozzarella, queste qua normali e qui vabbè gli arrosticini e le salsicce. Ok, sono troppo curiosa, a parte il naso rosso che c'è con la mascherina. Voglio vedere se le ciambelline che ho preso sono con la miele dolci, insomma, come le fanno, non lo so. Ci sono queste, quelle che mi ricordavo. Siamo scese a cena alla baita qui sotto che ci andavano dei cucinai a rosticini. Quindi ce li fanno direttamente loro. Questo posto è buonissimo ma poi guardate quanto è carino. Guardate se non è super carino. Ovviamente qua sto facendo tutto il mio TikTok del giorno. Che hai trovato qualcosa? A me si lo sai il tagliere, no? Non puoi sprecarti così. ne sai. Ah vabbè dai affettati i formaggi però ci sta dai, ci sta. Perché stiamo mi trovando un tagliere 10 amici di una scamorocca. Ah sì, vabbè, vabbè, vabbè. Sì, sì. Brava, sei brava. Sei molto brava a organizzare. Però mi fai prendere anche le verdurine grigliate, quelle con l'olio e il sale? Guarda quello che fa! Questo è il tagliere con che è? Ragnello frittata e qua tutti i salumi e i formaggi. Qui abbiamo gli arrosticiani molto carinelli nel suo contenitorino, la scamorsina al forno, ovviamente qualche zucchina grigliata perché che fai? Non te la fai una zucchina? No dai, tira fuori dalla Louis Vuitton nel sacchettino la talking bag. Non l'abbiamo finito, ragazzi. Sì, ci stanno. Una decina da rosticina. Mi stavo sentando male. Sapete perché? Perché io ho incartato pure la scamorza con le zucchine. Ma tutto questo sapete perché? Perché stiamo scappando su casa sapere che c'è posta per te. Dobbiamo cuore quindi è molto... Rilassate? Mai. Dobbiamo pure accendere il fuoco. Così, eh? Vabbè, dai una pubblicità e l'altra. No. Allora, è partita l'operazione provare per credere. L'operazione ingegnale. Come la chiamerei? Tentar non nuovo ce la chiamerei? No. stiamo cercando di fare un fuocherello senza diventare anche piromani insomma perché abbiamo dato direi. Sì, come la spacchi quella? Ecco qua. Vai, vai di cattiveria. E poi la carta e in mezzo ci met... Stai facendo la composizione? Sì, sto facendo la carta estetic. Ok, la carta la devi prendere col... come si diceva? Sei sicura di tutto ciò? Oddio, Giù! Eh sì, ma avvicina alle fiamme. Ma capito, un attimo. No, perché mi metti paura quando vede il fuoco in mano. Eccolo qua. Sì, ma io vedo che prende tutto tranne il... Ma capito, un attimo. Sì, ma... No! No, il cartone no! C'è un qualcosa? Sì, prendi una di quelle cose. Aspetta, aspetta, non la prendere da lì. Citta, che mi impanichi. Sì, ma non sta prendendo fuoco la legna, cioè, sta prendendo fuoco con la sua ragazza. Oddio! Oh, buona che un attimo c'è ciglia finte. Io pure. Cerca su Google. Come? Ci sta questa, lei non la vuole mettere. No, perché tu sei fissata con questa cosa, non funziona così. Ma mio padre ti ha detto di usare quella? Sì, Andrea, mi ha detto Giulia. Non l'ha detto. Sì, ma ti chiedi di amare accendifuoco, vedi? Accendifuoco ecologico, non è per la carbonella. Provaci. C'è la patta aperta. Insomma, se mi taglia da pesare la mente. Provaci. Sta arrivando il fuoco dall'altra parte. No, c'è la notizia. Bravo. No, cazzo, lei è scinta. Si è cercato tutto come quella natura neve. Però quella vedo che ti ha. Eh certo, questa devi prendere il fuoco bene bene bene. Ma aspetta. Non è la mia patta, però. Se avete consigli per the next time, please, leave a comment below. Ho capito che te lo fai, c'è il duto lei. No. Lei è fuori ma nell'equilibrio. Vai così, brava, brava, brava. Sì, brava, brava. Dai, no, cazzo, che ti prende fuoco. Adesso facciamo quando è freddo, Io vedo la carta che diventa blu. E chi se lo dice? Non lo so. Non io piromano. No, non voi processate per i piromani. Vai, vai, vai. È tutto bellissimo, veramente. Ah, non vorrei parlare troppo presto ma troncio apposta per te. È un fuocerello devo dire che sta prendendo. Guarda che sta prendendo, eh. Rettifico, tra un tirare lo so acquone e un legnetto. Eh sì, secondo me sì. Cioè, lo vedo bello avviato come progetto lavorativo. Ma ce la faccio. No, ferma. Devo far vedere una cosa, scusa, perché ti metti davanti? Tu lo sai fa così? Lei l'ha capito perché aveva un altro uomo. guarda che non è che beviamo. Io sobra. Sobra. Dai. Piccola. Allora, stiamo cercando di non incendiare la casa a scanno. Non voglio essere, non voglio avere un uomo. Stiamo accendiando il fuoco ma abbiamo paura. Ma no, sta andando. No, sembra che va, dai. piccola. Puzzeremo un po' gli affumigato, ma dettagli. Ah, così, col peggio e il vassoietto. Prego, ma mi lasci. No, ma ti amare. Scusami, no, mi sono tratta a ste bacce. Ma ti amico, ma si è spento pure il fuoco, che non so. Vabbè, è comunque cosico, ma tu, cioè, cioè, stavo andando lì e sento, ciac, 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 ciac. Io comunque ho preso questi da portare a casa. Ci siamo ovviamente struccate, in pijamate, abbiamo visto ci apposta aperte, poi ci siamo scordate di tutto il resto. Abbiamo anche fatto un TikTok, wow, siamo. Quindi ragazzi, per oggi, vi darò buonanotte. In realtà domani vi monto poi l'altra parte del video, così preprendo e vi faccio vedere altro. Quindi ci vediamo direttamente domani. A domani mattina. E buongiorno, ci siamo già preparate, come vedete, ci siamo truccate. Abbiamo messo tutto a posto, abbiamo pulito, ci siamo lavati, ci siamo rivestite ed ora siamo pronte per queste ultime ore. Quindi stiamo per andare a mangiare il mio posto preferito dal cuore. Facciamo un giro, portiamo giù le cose in macchina e poi siamo pronte. Oggi, l'ago. Eccoci, è il mio posticino preferito. Allora abbiamo preso la pasta con i fondi e la polenta. Aspetta, è il mio posticino che è un po' più carina. che fai, te ne prendi? No. Però, io ci avrei messo due sarti drittempo. Dov'è? La polenta. È più sugo, perché poi, vedi, rimane questa cosa. Buon appetito! È un metà fastidio. Manca meno. Ma quello non è di cucinare. Ma in generale. cosa? No, perché poi è finghietta altissima. No, lo vedi che è ovunque. Come si dice il prezzemolo le ovunque. Guardate, è bello il suo figlio. È proprio un figato. E arrivarono al lago, ragazzi. Lo direste mai che abbiamo ascoltato e poi, prima di venire qui? Che c'è scritto qua? Ah, non fare picnic, non giocare a calcio, non andare in bicicletta. Pensavo ci fosse scritto, sì. Volevo fare un figlio. Pensavo ci fosse scritto non dare da mangiare le occhi, che comunque non ci sono più, meno male. Ho fatto certe smaltite. Non sono mai arrivata in alto per fare la foto da sopra. Secondo me, è tipo, oddio, che cos'era? Melma? No, è ghiaccio, è ghiaccio. Questa è melma. Secondo me la foto se la fanno da lì, vedi, su quel cucuzzolo, tipo. Da lì, capito? Sali lì sopra. Certo, non so come ci si arriva, non ho più palia idea. O forse qui sopra, boh, non lo so. comunque ho fatto sta che è veramente pieno di melma. Questa non è melma, però mo scendo lì così mi vado a pulire la scarpa. Vedete com'è romantica?